Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di martedì 5 febbraio. Cielo sereno, a Trieste soffierà bora sostenuta e moderata sulle zone orientali e sul resto della costa. Gelate notturne in pianura e deciso aumento della temperatura in quota e marcate inversioni termiche notturne nelle valli dove di notte farà freddo. Le temperature. Sulla costa 2-5 gradi di minima 8-10 gradi di massima, in pianura meno 4-1 grado di minima 10-12 gradi di massima, a 1000 metri 1 grado e a 2000 metri meno 1 grado. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Grazie.